Grazie a tutti. Per evitare questi raggiri, il servizio di Roberta Mendola. Margherita Giuliani è una delle tante donne anziane ingannate e truffate, colpevole solo di aver creduto a dei fantomatici amici del figlio che l'hanno fermata sotto casa per una sorpresa speciale al suo Sandro, la conferma al telefono di un uomo che lei credeva fosse il figlio. Mammina, non ti preoccupare, è una cosa importante per me, dagli soldi, quello che ti chiedono, che io stasera ti giuro che te li ridò tutti. Poi in banca prelevare 2000 euro, i due impostori che l'accompagnano sotto casa, poi i ripensamenti, la disperazione, la consapevolezza di essere stata truffata. Una delle problematiche che spesso riscontriamo è proprio che la vittima di una truffa che chiaramente prova un sentimento peraltro naturale di vergogna per essere stato raggirato, spesso e volentieri non va presso le forze dell'ordine a denunciare la truffa subita. Passaggio indispensabile per agire è fondamentale per le statistiche, numeri di un fenomeno costante. Nel 2016 insieme alle altre forze di polizia, in particolare polizia di Stato e carabinieri, abbiamo registrato circa 1900 casi di truffe nei confronti di persone over 65. Quello che registriamo in maniera particolare è l'aumento delle truffe a carattere finanziario, laddove soggetti improvvisati da promotori finanziari tentano di carpire la buona fede delle persone anziane per farsi consegnare normalmente le disponibilità finanziarie, quindi le somme di denaro che detengono in casa. Pensioni a volte irrisorie, la prospettiva di maggiori guadagni e la buona fede degli anziani malcapitati. Il consiglio, vivamente formulato, è quello di contattare i numeri di pronta reperibilità delle forze dell'ordine, proprio per poter verificare chi si presenta alla nostra porta, piuttosto che chiedere l'intervento perché si ha già una cognizione effettiva che chi busta alla nostra porta può essere un truffatore. 117 il numero della Guardia di Finanza, 112 per il pubblico servizio. Istituzioni che spesso si sostituiscono alle famiglie, una rete sociale sempre più assente, ma sono tante le iniziative di supporto in corso. Oltre al grande lavoro delle forze dell'ordine ci sono realtà come le ACLI che organizzano spazi informativi e come il corso Antitruffa per gli anziani dell'ottavo municipio in collaborazione con la Polizia di Stato. L'obiettivo trasversale è quello di lavorare per costruire una comunità incentrata sulle relazioni, quindi mettere insieme società civile, organizzazioni come le ACLI, la FAPI, i centri anziani. Non va de me come Antitruffa per un cittadino più consapevole e diplomato in passaparola. Non sarebbe difficile di per sé perché gli anziani in questo momento sono molto disponibili a partecipare a questo tipo di iniziative. Hanno scoperto la validità proprio perché avvertono purtroppo in questo momento il pericolo che incumbe su di loro. Come diceva un giorno il poliziotto, diceva, ma a me io sono bravo, non mi succede, invece non è vero. Cioè succede, allora bisogna stare attenti. Anziani informati, cittadini più consapevoli e meno truffati.